La Dirty Dancing School di Agropoli La Dirty Dancing School di Agropoli La Dirty Dancing School ancora non ho le parole per descrivere questa emozione. Due titoli sentiti fortemente dopo tutte le difficoltà della giornata terminata le due di notte con un'atleta infortunata che ha voluto ballare ugualmente e non lasciare le sue compagne. Due titoli per i quali è le mie ragazze che hanno lasciato a casa famiglie e affetti e è arrivata la soddisfazione più grande.